Lo sportello del cittadino è a Taranto in via Umbria, una zona centrale di Taranto. Siamo nelle vicinanze, anzi proprio sul marciapiede di fronte all'Istituto delle Suore, Maria Ausiliatrice. Vedete, è avvenuta, sono state realizzate le opere di ripavimentazione. Devo dire un ottimo pavimento, davvero bello perché le cose vanno dette. Però come al solito ci sono dei nei che riguardano due aspetti. Uno, il fatto che i lavori sono incompleti e due, che gli uffici tecnici del Comune avrebbero dovuto e dovrebbero fare gli accertamenti del caso, le verifiche del caso. Perché, vedete, tra un mattone e l'altro, tra i vari mattoni, è stato lasciato dello spazio. Io ho chiamato un piastrellista di un certo livello, il quale mi ha detto, vedi che non è possibile che si lasci uno spazio del genere. Guardate, qui in genere si fa una gettata di sabbia di fiume che serve appunto a compattare i mattoni tra loro. Nelle civili abitazioni in genere si fa la buiacca. Ma in questo caso, vedete, qui ho il dito, vedete che è l'asco? Vedete cosa ci entra? Ci entra di tutto. Quindi qui si possono creare, innanzitutto tende a crescere l'erbaccia spontanea. E poi si annidano anche insetti. Allora io dico, ci vuole tanto, cara ditta, a mettere della sabbia di fiume? Qui le ditte, quando vengono a Taranto, devono agire secondo quelli che sono i criteri. Il lavoro deve essere realizzato, compiuto a regola d'arte. Perché il comune di Taranto paga le ditte e quando il comune paga siamo noi cittadini che paghiamo. Senza dimenticare poi, come ho detto poc'anzi, che gli uffici tecnici, credo lavori pubblici a questo punto, dovrebbero muoversi. Cioè i lavori pubblici devono mandare un funzionario a verificare che il lavoro sia stato fatto in un certo modo. Solo dopo si paga la ditta, perché la ditta poi rischia che se ne va, come si suol dire, chi si è visto si è visto e poi negli anni per sempre noi ci teniamo i mattoni in questo stato. Guardate un po'. Questa è la mia disamina. Nel frattempo, siccome lo sportello del cittadino è un open space, uno spazio aperto a tutti, aperto innanzitutto ai cittadini, mentre camminavo ho incontrato un signore il quale, non so, voleva dirci qualcosa. Allora, io vivo da queste parti e posso assicurare che tutti i mattoni messi, inizialmente sembrano che il lavoro sia efficiente, positivo e tutto. Però a lungo andare si muovono tutti e ballano e tutti cadiamo. Io sono caduto e sono andato a finire all'ospedale, perché quando ho telefonato ai signori dei lavori pubblici mi hanno detto vada dall'avvocato. E questa non è proprio positiva la cosa, anzi bisogna che chi ci rappresenta di venire a vedere sul luogo il tipo di lavoro. Il lavoro inizialmente sembra efficiente, ma poi andare col tempo si muovono tutti e cadono tutti gli anziani. Perché qui il lavoro è stato fatto negativamente. Bene, questa è la voce del popolo che per noi è sacra. Salutiamo l'amico che ci ha voluto dare il suo contributo. Io non so se questi mattoni balleranno o meno, mi auguro e spero di no. Sta di fatto però che qui la sabbia di fiume deve essere messa. E allora intervenite, 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 signori dei lavori pubblici, mandate i vostri funzionari e prendete per le orecchie la ditta. Perché la ditta viene pagata, non fa, non lavora per beneficenza. Voleva dire qualche altra cosa? Poi anche i cordoli dei marciapiedi, quelli bianchi, si muovono tutti. Io l'altro giorno ho fatto un'altra caduta. Mia moglie ha fatto due cadute. Qui tra poco l'ospedale sarà fatto da gente di una certa età, ma però non vengono retribuiti niente. Perché siamo sedotti e bidonati tutti quanti. Anche perché c'è da dire una cosa, il cittadino cade, poi fa l'azione risarcitoria, il comune viene condannato e quando viene condannato il comune deve pagare. Ma quando paga il comune poi siamo sempre noi cittadini con le nostre tasse a dover far fronte a questo. Allora non è di gran lunga meglio fare i marciapiedi come Dio vuole? Allora non è di gran lunga meglio fare i marciapiedi come Dio vuole?